Wow, buongiorno, e allora dai, granchiamo un po' le gambe, togliete l'ipossia dalle parte nobili, alzatevi un attimo, ops, perché poi prendiamo self food che fa molto bene al nostro corpo per ossigenarlo, ma se noi creiamo delle compressioni ripetute, benvenuti. Il triangolo no, diceva Renato Zero 43 anni fa, oggi io vi dico il triangolo sì e questa mia relazione è una direzione, una direzione da percorrere se sia possibile tra ambiente sostenibilità, garantire la salute, salute e sostenibilità ambiente questo triangolo e qual è il ruolo dei mitocondri tra ossigeno e epigenetica. Ho creato questo titolo quando Giorgio mi ha chiesto la mia relazione, dopo me ne era anche un po' pentito all'atto pratico di fare una nuova completa presentazione perché l'argomento è molto importante, soprattutto di questi tempi e da ieri che ho fatto la moderazione, molti di voi c'erano, molti relatori hanno parlato di unire i puntini e allora diamo onore al merito a chi ci ha lasciato questa ammirabile affermazione che non è possibile unire i puntini guardando avanti, potete solo unirli guardando all'indietro, così dovete avere fiducia che in qualche modo nel futuro i puntini si potranno unire. Chi eravamo, chi siamo, dove andiamo e allora chi ha qualche giorno come me, welcome in the 60, ha giocato con questi cruciverbi, erano questi videogame, no? E allora l'obiettivo è proprio unire i puntini e allora vi dicevo il triangolo sì, fra salute, ambiente, sostenibilità. E allora facciamo in questa assise di colleghi così prestigiosi, facciamo gli istituzionali, cos'è la salute? Qui ricorro all'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non soltanto l'assenza delle malattie, fisico, psichico, sociale, quello che mangiamo, beviamo, respiriamo e quindi questo nostro pianeta l'ambiente è lo spazio in cui si sviluppa la vita degli organismi, costituito da esseri viventi, anche noi, che siamo la più piccola percentuale di questo pianeta, elementi non viventi, fattori abiotici ed elementi artificiali creati dall'uomo, già a leggerlo mi fa paura questa cosa. I fattori biotici, bios, vita, fa riferimento a tutti gli esseri viventi che vivono in un ambiente, batteri, funghi, flora, fauna, esseri umani, noi siamo la percentuale più piccola di tutte queste componenti e le interazioni fra esse, elementi non viventi, fattori abiotici, sono quelli che mancano di vita ma determinano lo spazio fisico dell'ambiente, aria, suolo, acqua, è quello che noi produciamo con gli elementi artificiali creati dall'uomo che comprendono tutto quello che è urbanizzazione, cultura, tradizioni ma purtroppo, perché mal gestita, industrializzazione, trasformazione, un termine televisivo quando riflettori puntati che parlo del cibo che non mi piace, utilizzo il termine proprio di cibo trasformato ed inquinamento, elementi artificiali creati dall'uomo. Sostenibilità, salute, sostenibilità, sostenere, tenere, tenere su. Nelle scienze ambientali ed economiche sostenibilità si intende condizione di uno sviluppo in grado di assicurare soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri pubblicità. Interrompiamo la trasmissione. Io mi vergogno di far parte della generazione dei boomer perché abbiamo fatto dei grandi sassi. Ma no, io che centro Mario? Ognuno di noi poi dirà, però sicuramente abbiamo assistito a qualcosa che ha peggiorato notevolmente la condizione di questo pianeta. Ma dal 1972 che rincorriamo queste cose già e negli ultimi vent'anni abbiamo fatto un disastro, tanto che la banca del tempo corre verso l'insostenibilità. Il rapporto Brantland venne definito con chiarezza l'obiettivo dello sviluppo sostenibile che dopo la conferenza ONU su ambiente sviluppo nel 1992 è diventato il nuovo paradigma dello sviluppo stesso. Buon compleanno, siamo a 31 anni da questo rapporto. E che è successo? Che sappiamo quello che dovremmo fare. Cosa dovremmo fare? Maggiori aree verdi, ogni albero piantato ci difende dalla CO2 prodotta, ma se non la producessimo poi vediamo sarebbe anche meglio. Ottimizzare la viabilità all'interno degli spazi urbani, ricorso ad un tipo di produzione industriale che abbia un impiatto ambientale legato alle emissioni di CO2 sempre più basso, utilizzo di tecnologie green e di forme di energie rinnovabili, adozioni di stili di vita individuali che prediligano il giusto utilizzo delle risorse a disposizione minimizzando gli sprechi e prevedano il corretto smaltimento e riciclo dei prodotti consumati. Sembra il programma della mia candidatura a sindaco, no? Ma è quello che è stato proprio stabilito che tutti coloro che ci governano dovrebbero provvedere a fare. In questa condizione di sostenibilità ambientale, ahimè, l'avete anche letto nella definizione ufficiale, c'è una sostenibilità economica, c'è una sostenibilità sociale e questo si chiama sviluppo sostenibile, ma da medico spesso non condivido le scelte adoperate per difendere la zona rossa che è la sostenibilità economica. E ora vi faccio vedere gli esempi pratici. L'ambiente, dicevamo, elementi artificiali creati dall'uomo. Body burden, il mio cavallo di battaglia da vent'anni negli eventi di Giorgio soprattutto, la zavorra corporea che noi giorno dopo giorno creiamo nel nostro corpo mangiando, bevendo, respirando cose che non ci fanno bene. E allora guardiamo un po' che è successo in quest'estate. È successo che ha grandinato come non mai. Questo è Milano a fine luglio. Poi che è successo? È successo che in più parti d'Italia ci sono stati veri e propri tornado che hanno portato a sradicare degli alberi. Nessuna zona si è risparmiata di questo. Ma una cosa che veramente mi ha impressionato è quando ho visto questa immagine del Fregius, che è venuto giù in maniera violenta, imponente, con un danno incalcolabile. Venendo su, l'altro giorno sentivo un'ora e cinquanta di attesa per andare in Francia. Quindi tutto questo si riflette anche nella nostra economia, nel nostro sociale. E quindi magno pesce spada figlia bedda mia. In Sicilia le donne in attesa, i papà e i mariti pescatori, le nutrono di pesce spada e tonno nei mesi di gravidanza. E questo a Priolo Gargallo ha generato decine di migliaia di bambini malformati. Perché Leniken ha ben pensato, ora c'è un libro bellissimo che ha scritto Fabio Loverso, il mare color veleno, uno dei più grandi disastri ambientali del paese, che però, senza alzate di mani e cose, altre di indagini. Questa cosa non ha, questa è una strage di Bologna che ogni 2 agosto ci sconvolge a ricordare quell'episodio. Questo episodio non viene considerato ed è un dramma superiore a Fugushima per quello che ha generato negli anni. Ma che è successo? Niente. Negli impianti di clorosoda per trasformare il petrolio in carburante e si usa il mercurio hanno fatto un foro in combutta con chi andava a fare i controlli per buttare mercurio nell'acqua. Perché direte voi? Sti disgraziati hanno fatto questo? Per risparmiare sui rifiuti tossici. E quindi, ma non è l'unica cosa, andiamo a nord per far vedere che non c'è. La pianura padana è il più grande rischio ambientale per la salute in Europa, quella zona, dove ci sono emissioni a go-go. Guardate quell'immagine tremenda. E allora, non solo, con Giorgio ci confrontiamo da tanto, tanti pazienti che fanno che l'azione da me vengono fino a Roma, dal quartiere Tamburi di Taranto, dove ancora sappiate, e si sono alternati qui tutto l'arco parlamentare, siamo partiti da un estremo, siamo arrivati all'altro, ma ancora i forni dell'Ilva, dell'ex Ilva, sono accesi. Perché spegnerli significherebbe bloccare un sistema che non può essere riattivato e che costa milioni di euro. Quindi, sostenibilità, salute, economia sociale. E però, sia il sociale che la salute, a Taranto ci sono, quartiere Tamburi, spazi all'aperto dove non è possibile giocare sotto i 14 anni, nell'età dello sviluppo. E morti relativi all'inquinamento dell'area, sia all'esterno che in ambienti domestici, non dimentichiamo l'inside. Toglietela sta moquette da casa se avete una casa anni 70 stile night, che non è che faccia così bene, non basta warwack folletto per tirar fuori tutto quello che accumula questo dannoso condizionamento. Ma tu chi sei, Mariani? Io sono un medico chirurgo specialista in angiologia, mi occupo di angos, i tubi, sono il super Mario del corpo umano, mi occupo di linfatici vene arterie. E allora vi dico, attenzione, che tante di quelle morti di cardiopatia ischemica, una su tre, dipende dal body burden, da quanta zozzeria va nelle arterie. Le infiamma e le chiude. E quindi epigenetica, quello che sta epi, sopra al nostro DNA. Wow, ma l'associazione italiana ricerca sul cancro, ci dà definizione, sì, studia come le teleesposizioni a fattori ambientali, tra cui agenti fisici e chimici, dieta, attività fisica, possono modificare l'espressione leggeri pur senza modificare la sequenza del DNA. Mettiamo un whatsapp a tutti i nostri colleghi immediatamente? Mettiamo questa frase? I meccanismi epigenetici che possono modificare l'espressione dei geni sono diversi, in molti casi reversibili, in molti casi reversibili, I have a dream, diceva qualcuno. Le caratteristiche epigenetiche si modifiano nel corso della vita e possono essere trasmessi da una cellula all'altra. L'epigenetica può influenzare il rischio di sviluppare molte malattie, incluse il cancro. E qui stiamo in ambiente cancro, ma nel mio ambiente vascolare l'infarto è l'ictus, anzi, molto più che il cancro purtroppo queste malattie incidono. Questo è il riferimento, se volete andare a leggere, chi vuol fotografarlo e ritrovarlo, lo dice l'AIRC. Fa figo, no? Molto televisivo. E allora andiamo a indagare. Chi cerca trova. Chi cerca trova. E allora il Tao, ricaccio questo mio primo libro di otto anni fa, il bianco e il nero, senza sfumature di grigio, quelle le lasciamo in altri passaggi della nostra esistenza. Quando mangiamo, beviamo e respiriamo, cercare di fare tanto bianco. Perché il bianco ci protegge. E ringrazio Giorgio Terziani e tutta questa meravigliosa organizzazione di questi due giorni, perché stiamo facendo il primo hashtag, educazione, che ci dà cum. Vi abbraccio, insieme cum. Ci dà consapevolezza. Quel poco che do io, che da lei, che da lui, che da lei, che da lei, insieme ci portiamo fuori una consapevolezza per scegliere e avere un metodo. E allora attenzione al body burden, al Tao nero, quello che ci inquina, quello che ci intossica, che possiamo individuare prelevando tre bulbi di capello oggi. Pensate che storia viene fuori. Ieri abbiamo visto anche risultati poi di quando un test diventa realtà, perché abbiamo presentato il caso di un paziente ieri che aveva nella curva del cerchio il 70% il colore nei metalli tossici, è venuto da me a fare terapia chelante e ha buttato fuori alluminio 12 volte superiori alla norma e piombo 6 volte. Quindi non è solo immaginazione. Questo bisogna poi attivarsi, perché il test va bene. Quando viene fuori un risultato su elettrosmog di schermo, telefonini o altro, dobbiamo fare, sapete la mia maestra mi diceva, la terapia più preziosa ma più difficile da fare quale sia? L'evitamento. E guardiamo un po', perché parliamo di tante cose, ma andiamo sul nostro quotidiano. Vediamo un po' sostenibilità. Quante emissioni producono i cibi? Capite perché bisogna, chi ancora vuole e insiste a magna sti quattro zampe, ridurre? La carne bovina da allevamenti intensivi, perché quella mangiamo poi, eh? Quella danno l'asilo ai nostri figli, eh? Perché quando alle menze di Ascoli Piceno, la mia città, le abbiamo escluse, sono scesi in campo i nonni, neanche i genitori. Che gli dà la carne a lui figli mie? No? Siete poveri? No, guarda che la cicerchia, che è un legume nostro dei sibillini, costa molto di più della carne, non è questione, è di budget, di gestione e di scelta. Quindi, 41% gli allenamenti bovini. Poi, per dirvela tutta e onestamente, la carne si può mangiare, sì, poca, poche volte, ma figaro, di qualità, di qualità, di qualità, un vitellone marchigiano che sta sulle nostre montagne, pascola all'aria aperta, perché il problema principale, ne abbiamo parlato tantissimo questi due giorni, di ste bestie, è lo stress ossidativo che hanno a stare tutte lì, così. E l'acqua, oh, vanno fatto fare le docce se state dopo mezzanotte dalle vostre parti? Dalle mie parti no, per razionare, per gestire. E allora, sappiate, un chilo di carne, 15.500 litri, una doccia sono 60 litri, una doccia di due minuti, una bistecca da 300 grammi te la mangi, sono 5.000 litri di acqua che ti fai fuori. E allora, quale può essere il ruolo dei mitocondri tra ossigeno ed epigenetica? Io sono appassionato di mitocondrio perché il cuore ha 500 volte più mitocondri di tutte le altre cellule, perché è la macchina che agisce, funziona, respira. E quindi dobbiamo difenderlo, questo mitocondrio, alzando il sedere, non solo qui, stimolati da me, ma anche domattina, quando vi rimettete a visitare ininterrottamente pazienti, alzate le ste chiappette ogni tanto, perché dovete riossigenare il sistema, perché poi il primo organo che ne risente è il plesso emorroidario di quella seduta e di quel calore che date. Consiglio da un flebologo. E quindi noi siamo questo, quando smonti, rimonti, smonti, smonti, smonti la barbi in tutti i pezzi, noi siamo ossigeno, trasportato da un glicocalice, quante relazioni con Giorgio, anche tutte le cose abbiamo fatto su sto glicocalice, anche il capitolo su... Sì, sul libro. E quindi è sto glicocalice che ci trasporta sto ossigeno, e allora, vi prego, facciamo tutti qualcosa, chi più, chi meno, ma diamoci una mossa, let's move, diceva Michelle Obama, quando entrate in campo nelle scuole. Tutti noi facciamo tutti qualcosa. E allora scelgo, scelgo ciò che mangio. Io non partecipo mai, rinunciando anche a cene con Chef Stellati, il ristorante che ha il menu stabilito. Io scelgo ciò che mangio, perché è determinante scegliere, perché ci sono cibi salutari che fanno bene a noi e al pianeta. E la dieta americana, dove si mangia in media quasi sei volte e mezzo la quantità raccomandata di manzaniello, è quella che genera più patologia. Allora, qual è la risposta? Sempre dagli Stati Uniti arriva, ma è roba nostra, il Planetary Health Diet Index, che è questo. Sorrido, perché ogni volta che con enfasi dall'oltreoceano ci rilanciano le ricette, noi le sappiamo perché era il cibo di nonno e nonna, ovvero tante verdure, cereali integrali, frutta, vedete qual è il piatto? Base. Poi la dieta mediterranea si contraddistingue perché è onnivora e c'è tutto. Ma io sono figlio di segretario comunale e conosco cosa è la MPS, che non è il Monte dei Paschi di Siena, ma è maiale, pepe e sale. E' un porco che cresci due anni come un figlio, lo chiami anche per nome, poi lo macelli e fai i salami e le salsicce. E mangi quello, non mangi nitriti e nitrati che sono, cari colleghi oncologi, nitrosamine e ogni fetta di salame so' cinque sigarette. Lo vogliamo iniziare a dire così, che ogni fetta di salame confezionata so' cinque sigarette? Pubblicità. E quindi Harvard nel 2011 ricorda al mondo che c'è una dieta mediterranea fatta di metà piatto di verdure, cereali integrali e proteine salutari. Quali sono? La dieta veghittica vi consiglio, pesce e la stagionalità del pesce, perché vengo da Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, è il porto più pescoso dell'Adriatico. C'è una stagionalità per ogni pesce, carni bianche, legumi, frutta guscio. Harvard dice nel 2011 limitate le carni rosse e evitate le carni trasformate. e Ansel Key, Dio l'abbia in gloria, fu il primo che diede visibilità internazionale alla dieta mediterranea. Qual è il consiglio che vi do, colleghi, amici? Vivere senza frigorifero, perché i nostri centenari di oggi sono quelli che sono vissuti fra le due guerre e non avevano il frigorifero. Al di là delle ristrettezze, la carne rossa non la mangiava nessuno, il pesce lo cercavano con fatica, si dicevano anni fa l'ospite come il pesce dopo tre giorni puzza, oggi non puzza più, quindi attenzione quando uno si mette a casa vostra a mandarlo via. Quindi cos'è dieta mediterranea? Frutta, verdura, cereali integrali, legumi, oliozza vergine d'oliva, semi olegianosi? Domanda che mi ha fatto prima l'amico Massimo, e basta? No, no, il pesce quando lo peschi e il pollo quando lo acchiappi. Quale donna qui dentro ha spennato mai un pollo? Pubblicità. Non è dieta mediterranea tutto quello che leggete, ma andiamo al gran finale. Il triangolo sì! Sì, Renà. Il triangolo sì. E soprattutto, grazie a un test, riusciamo ad unire tutti questi puntini, perché sappiamo qual è la direzione da indicare al nostro paziente, è incredibile come la tecnologia e lo sviluppo ci venga in aiuto, e allora è indispensabile, è proprio indispensabile, perché se no sto viaggio a Bologna lo vanificate, che voi vi iscriviate a questa scuola, perché in questa scuola io rappresento Claude Bernard, che è un fisiologo francese, che disse il terreno è tutto, quindi io, motossicologo, potete immaginare la grande stima, ma lui ci ha lasciato una frase fondamentale, che è quello che sappiamo già ad impedirci di imparare. E quindi, guardate che bella gente, che bei sorrisi. Lo sapete di che frutto tutto questo amore? Dell'amore, perché il principio fondamentale della medicina è l'amore. Grazie. 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 Grazie.